Eccoci qua 12 giugno, 12 giugno anche oggi abbiamo preparato la lista lavoro, abbiamo ricevuto varie offerte di lavoro qui, vediamo che c'è lavoro sulla via Nomentana, conoscenza inglese, lungo orario Casalombroso e poi qui la signora ha trovato Vital, ha trovato Jennifer ha trovato, Silvia anche donna fissa, fissa qui anche e poi una signora in albergo qui, conoscenza lingua inglese, lungo orario, due lungo orario, un lavoro per uomo, la signora Di Rienzo. Ci sono varie offerte di lavoro oggi che è il 12 giugno, ringraziamo il signore perché anche oggi è stata una giornata, ci sono delle offerte di lavoro e preghiamo che piano piano arriveranno altri lavori, ringraziamo il signore anche per tutti quanti voi che siete venuti qui a visitarci, potete trovare tutte queste cose qua, tutti questi messaggi su Youtube, potete andare a vedere su ACAP Mission, Missione ACAP o ACAP TV. Noi siamo adesso in via Dusme 31, ci sono varie persone che stanno lavorando anche dietro di noi, ringraziamo a Kuldip che sta preparando qui i suoi curriculum di tutte le varie persone, le stanno rimettendo qua e anche qui Fausto, ringraziamo tanto per essere con noi. Ringraziamo tutte le varie persone che sono qui di essere venute, abbiamo sentito il messaggio della parola di Dio prima, era il messaggio dal libro degli atti, dal libro degli atti abbiamo sentito quello che il signore ci ha detto e dalla lettura del libro degli atti era atti capitolo 14. Abbiamo visto come San Paolo e Barnaba hanno testimoniato e hanno fatto anche dei segni, brodigi e miracoli e c'era una persona con i problemi ai piedi, gli ha detto alzati e cammina e lui si è messo ad alzare e camminare e glorificava Dio ma c'erano i giudei e c'erano altre persone che erano contrari. Ringraziamo il signore perché avete ascoltato questo messaggio, abbiamo anche qui abbigliamento gratis, come voi conoscete bene il nostro messaggio qual è? Il messaggio è quello di accettare il signore Gesù nel proprio cuore per essere salvati, per essere rigenerati e noi ringraziamo perché tutti quanti voi siete qui non solo per la lista lavoro ma siete anche felici di ascoltare il messaggio della parola di Dio. Tra un po' ci sarà attraverso il videoproiettore la trasmissione di varie informazioni che andranno lì al muro e voi potrete conoscere le varie informazioni che bisogna fare per trovare lavoro, quello che bisogna fare, bisogna pregare, bisogna avere un atteggiamento mentale positivo, bisogna essere ottimisti, propositivi e il signore risponderà secondo la sua volontà, secondo la nostra anche fede. Abbiamo ricevuto varie telefonate poco fa, avete sentito e adesso io vi darò la lista a tutti quanti voi, preparate un documento, documento valido, permesso di soggiorno e io adesso vi darò tutto quello che vi serve e poi speriamo, preghiamo che verranno anche altri datori di lavoro, vediamo che anche fuori là ci sono persone che aspettano come tutti i giorni e subito vi darò quello che serve. Ringraziamo il signore per quello che ci ha dato e proseguiamo adesso con la distribuzione della lista lavoro.